eccoci ben trovati spoiler radio bilanio sette come sono su tutti i nostri social pronti per raccontare una cosa nuovissima guardate nel riquadrino piccolino ve li faccio vedere sono in tantissimi eccoli qua Caterpillar eccoci evviva allora dobbiamo raccontare una nuova iniziativa un esperimento sociale quasi sì 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 guardandomi potremmo allora io dico tutti i nomi di tutti e poi voi mi dite chi siete chi non c'è qui Luigi Aquilino Denise Brambillasca Gaia Carmagnani Eugenio Feabosia Ilaria Longo Valentina Sicchetti e Daniele Vagnozzi Vagnozzi il maestro beh come come è lui che conosco e so che non c'è allora presentatevi allora io sono Luigi Aquilino molto bene Ilaria Longo Eugenio Fea e Valentina Sicchetti perfetto tu sei da un'idea di Luigi Aquilino io sono l'idea di Luigi Aquilino sì sono qui in rappresentanza dell'idea di idea allora giovedì sera esauriamo come dire gli elementi di servizio esatto giovedì sera venti e trenta giovedì nove è questo giovedì in sala Picasso docu comedy una serie di documentari serie serie mi fa ridere un po' la idea meno male perché i ragazzi sono dei comici siamo dei simpaticoni raccontateci allora qual è l'idea di Luigi Aquilino andiamo ad esplorarle insieme scopriamo allora docu comedy che cos'è è un bel contenitore di un'oretta al cui interno ci sono degli sketch comici appunto noi andiamo a utilizzare questi sketch per fare una parodia dei documentari che tutti conosciamo no? Sia quelli televisivi sia quelli che troviamo sulle piattaforme streaming e documentari un po' di vari di vari generi no? Da quello scientifico da quello artistico ricordiamo ad esempio Filippo D'Averio il grande Filippo D'Averio eh quelli musicali esatto che troviamo in televisione per passare anche a quelli che parlano di mistero no? Di misteri che molto spesso sono inventati dal documentario stesso e noi esattamente e questo è evidente ai telespettatori e anche a noi infatti abbiamo voluto fare appunto una parodia di questi. Quindi quindi no sostanzialmente da un'idea di Aquilino non hai inventato un cazzo. Non hai inventato assolutamente assolutamente. Sì come si dice la realtà supera sempre la fantasia quindi. Assolutamente sì. Non si entra il mondo Vianello solo perché siete in 7-8. Infatti non l'abbiamo non l'abbiamo reclamata come come idea Caterpillar. Gliel'abbiamo lasciata a Luigi Aquilino. E ci sarà un motivo. Nessuno si è speso per dire no? L'idea di tutti. Perché si vergognano. Allora tra l'altro è arrivata un'altra Caterpillar qui dietro perché insomma è il bello il bello della diretta registrata perché sappiate questa è una diretta registrata oppure una registrata che va in diretta vedetela voi? Brambillasca, Denise eccola qui che compare qui spuntanandoci completamente le luci di questo studio che lungamente abbiamo ecco la vedete che già lampeggia non è un po' questa la tagliamo certo in post-produzione allora diciamo innanzitutto che il prezzo è misero. È irrisorio. Il prezzo è irrisorio certo. Che è un po' il sintomo di quanto l'idea di Aquilino vale 10 euro. 10 euro a sera ma vale così poco che voi potete partecipare ai quattro appuntamenti che sono diversi eh sono il nove novembre è il primo. Mi piace questa cosa mi piace perché questa è la vera idea in realtà che gli appuntamenti che vedete saranno tutti diversi. Tutti diversi. E quindi sono delle serbe. Perché sarebbe paradossale pensare che qualcuno venga a vedere Caterpillar quattro volte la stessa cosa. No anzi io ruberò una frase che ho letto su un menù l'altra sera. Noi non vi stiamo convincendo a venire. No. Vi stiamo convincendo a tornare perché voi parteciperete al primo appuntamento che è il nove novembre. Impossibile dimenticarlo. Sette dicembre. Questa è la rubata. Gennaio e quindici febbraio e potete partecipare a questa idea che vale poco perché vi ha più di Giacolino 10 euro a sera ma se partecipate a tutte e quattro fate un bellissimo carnet a 34 euro. Cosa si è inventato binario 7 signori? E qua la regia manda gli applausi poi. Sì non ce li ho però come dire il mio cuore si riempie di orgoglio finalmente un artista, un'attrice che capisce qual è e voglio dire senso poi. Esatto. La pepunia. Quali sono le cose importanti. Posso farvi due domani mezzi intelligenti? Allora noi abbiamo sempre vi abbiamo già visto in opere interessanti assolutamente voi siete tutti giovani. Lo dicevamo tant'anni fa ma ormai in realtà non sono più o meno così tanto giovani ma in opere come quasi impegnate in un certo modo no? Poi invece siete più scansonati come dire com'è questo passaggio alla scansonatura? In realtà non è un passaggio ma è un po' un ritorno alle origini. La lancio così apro il tema e lascio parlare i miei compagni. È vero è vero perché noi in realtà nasciamo come classe ok che durante la scuola aveva diciamo dei appuntamenti molto comici. Sembra che stai raccontando qualcosa di assolutamente assolutamente hot. No. Delle cose strane. Ma lei ha questo afflato. Avevamo lavoravamo in questo possiamo dire centro sociale si dice no? Certo si dice. Lavorare in un centro sociale stona ma va vera per dire e preparavamo di notte praticamente questi sketch che a noi piacevano tantissimo perché al pubblico no? No. Anche al pubblico venerdì sera c'era un appuntamento e partivamo così dalla scansonatura appunto di mettersi insieme a lavorare su qualcosa di assolutamente faceto ma che aveva e aveva poi c'era una parola che non so se in radio. Non so se in radio non si può dire. No si può dire ma non so se arriva. Diciamo lavoravamo sul nostro lato scherzoso ecco mettevano così e ci divertivamo tantissimo. I risultati erano ottimi quindi riproviamo ce la farò qualcosa di con un element in più che è il documentario che questa è la vera idea. Che questa è l'ideona. Grazie. Quindi passiamo dai centri sociali al binario 7. Un passaggio veloce. Siamo un po' parenti in un certo modo. Gasman è nella grande guerra e invece un'altra curiosità. Siccome qualcuno di voi si è già cimentata eh per esempio nello stand a comedy no? Com'è invece fare comicità tutti assieme? Eh è una gara a chi fa ridere di più. No non è vero. Eh sì questo è il tuo pensiero. Beh io vivo sono un po' competiti anche. C'è una competizione assolutamente sana per fortuna mi vogliono bene e io ne voglio loro. Eh la cosa divertente è che essere una squadra e giocare a fare comicità insieme e il risultato è sicuramente ehm ottimo e quindi. Ma perché poi ciascuno di noi lavora sul proprio lato comico. Esatto. Siamo tutti molto diversi e questo che ci ha portato poi anche negli anni a creare qualcosa sempre qualcosa di diverso e mettere insieme diverse personalità ehm porta un un piatto completo eh. Porta dei problemi mentali. poi vedremo giovedì sera. Io farò la maschera giovedì sera che è con la posizione per cui se il tuo spettacolo fa cagare. No. Se ho detto se. Te ne puoi andare se il tuo spettacolo è interessante e ti attesti in qualche modo eh il risultato se volete. Ecco chi ha fatto queste foto che sono molto carine? Spero che mi siano venuti. Lo salutiamo. Marco. Marco Ragaini. Marco Ragaini. Che hai reso più belli di quello che siamo grazie. Beh sì. Io che sono qui che li posso vedere effettivamente. Eh ma poi questo green screen non perdona ragazzi. Poi sono dolce vita green. Eh prima prima c'avevo c'era una magia c'era una sedia sul petto. Adesso sono più. Eh beh. Qualche anticipazione rispetto allo svolgimento delle quattro le chiamerei puntate. Siamo in radio le puntate. Abbiamo una una cronologia no. Un diagramma di canta come dire. No una cronologia vera e propria no però si va totalmente a caso e no diciamo che noi siamo tuttora alla ricerca di di materiale. Noi accumuliamo materiale, notizie, nozioni. Se telefonate da casa hai ci dato la mano. Esatto. Se volete inviarci anche notizie. No ma loro sono Luigi, Luigi e Ilaria sono sono notti notti, giorni, giorni che cercano notizie ovunque ovunque. Qualsiasi cosa sta per loro diventando una notizia. È che bisogna stare sul pezzo. Certo tutto tutto tutto. Se ci volete aiutare ci mandate anche notizie interessanti noi le tramiteremo in dei divertentissimi momenti comici documentari che poi vedrete. Abbiamo già preparato la puntata del 2024 ma bisogna aggiornarla perché come fai a non parlare di un gruppo di suore che ha investito. Diciamo è assolutamente è assolutamente un gruppo di suore. Le suore hanno investito una signora che non si sono fermati e gli hanno detto alzati e cammina. Non hai niente. Alzati e cammina. Tutte notizie vere. È vero. È vero. È vero. Come fai a non parlare di una donna che si innamora di un albero. Come. Quindi. Diciamo che invece di essere site specific è time specific. Io questo non l'ho capita però questo è un'idea di. Mi hai detto conto che ho un problema. È un'idea di Eugenio Fea. No ma posso tradurre nel tempo. Nel tempo. Cioè che nel tempo ogni volta si aggiorna un po' come in realtà anche lo spettacolo di fuori dagli schermi. Però. È la sua stand up di cui parlavi prima. Perché è perché lei è quella che porta. Sono l'unica che fa ridere del gruppo poi. Brava. E poi ci saremo con anche altre cose un po' di stile stand up ma non dicevo niente. No. No. Però voglio dire che lei è quella che porta sulle spalle il peso della della professionalità. Sì. Quella vera. Lei porta il peso poi lo distribuisce. Quella col dolce vita. Allora. Docu comedy. Una serie di documentari semi seri. Questi sono un po' parati il culo. Come dire. Poi vediamo. Se la gente non ride. Facciamo per dei convegni. All'ultimo minuto. Sì. Sì. È un problema. Giovedì 9. 2023. Quindi giovedì questo. Sala Picasso alle 20 e 30. Vi aspettiamo numerosi. C'è ancora qualche posto. Non tantissimi ma ci sono ancora eh dei posticini liberi. Caterpillar. Volete dire qualcosa? Beh 9 novembre. 9 novembre. 9 novembre. Beh la comicità comunque di Ilaria. Dobbiamo tagliare il pezzo in cui rimane. Ultima frase che ha detto. Non rimane niente. Allora. Greg. Devi sostenermi questo. No. Devo dire sono fiera della mia collega amica perché ha rubato una battuta che ho fatto io ma lei l'ha fatta male. Quindi. Ma no. È solo perché no. La cattiveria. La cattiveria vince. Vinci in radio. Vinci in tv. È per quello. Ma nessuno la caga. Adesso l'ho detta. Allora Greg. Puoi tagliare tutto quello che abbiamo detto e tenere solo questa frase. Sì. Allora. Vi siete mai chiesti perché. Non vi chiediamo di ritornare. Esatto. E poi vi siete mai chiesti perché la pizza è rotonda. La mettiamo in una scatola quadrata e la tagliamo in triangoli. Bene. Se ve lo state chiedendo ora. Ci vediamo giovedì. 9 novembre. Mi parleremo. Grazie. Grazie. Sono favorevolmente impressionato. Grazie a tutti. Alla prossima. Speriamo di vederci giovedì. Grazie. Ciao. Grazie ragazzi.